Vi chiedo scusa in anticipo perché ho una voce un po' nasale, praticamente sono pieno fino a qua di muco e faccio una fatica bestia a parlare. È sabato notte, è praticamente mezzanotte di sabato e io ho appena recuperato una partita che è stata molto divertente da vedere, un po' meno per il risultato, devo essere onesto. Sto ovviamente parlando di Roma-Inter 2-4, no, non ho visto Sanremo neanche questa volta e non mi interessa, in questo momento ancora non si sa chi ha vinto Sanremo, domani mattina invece lo saprete tutti e sarete felici o magari no, non ho idea, non ho seguito la competizione, però so che Amadeus ha seguito effettivamente la partita prima di andare a condurre la finale del festival. Ecco, io purtroppo non sono riuscito a vederla in diretta, però quando poi ho recuperato il risultato finale mi sono detto, d'accordo, va vista assolutamente perché è troppo importante parlare di una partita del genere anche in chiave Juve. Ed è per questo che vi chiedo un supporto, un mi piace, perché questo non sarà l'unico video di giornata, questo è il buongiorno della domenica mattina, ma ci vediamo anche nel primo pomeriggio, perché alle 14 parla Massimiliano Allegri e va a presentare quella che è una partita delicatissima, Juventus-Udinese, non perdetevi assolutamente il video della conferenza stampa, questo è soltanto un piccolo antipasto. E volevo parlarvene perché ovviamente avevamo la speranza che l'Inter potesse lasciare qualche punticino a Roma e devo dirvi la verità, mentre ero in giro a fare compere e aggiornavo il risultato, vedevo, ok, un azzaro dell'Inter, d'accordo, prevedibile, o però, attenzione, la Roma ha pareggiato, cosa? La Roma è addirittura in vantaggio alla termine del primo tempo, per poi vedere che la Roma era andata sul 2-2 e per poi vedere il 3-2 e addirittura, anzi, quasi subito il 4-2, perché nel momento in cui ho guardato verso la fine il risultato era 3-2 e mi si è aggiornato in faccia al 4-2 e ho detto, vabbè, d'accordo, allora come non detto? Però ho voluto rivederla, questa partita, perché credo che ci siano degli spunti interessanti. Intanto l'Inter nel primo tempo ha faticato, e non poco, la Roma va in vantaggio dopo essere stata in svantaggio, e questa è una grande prova, secondo me, di maturità da parte della Roma di De Rossi, che si vede già essere una squadra riversa, si muove già in maniera differente rispetto a quella che era la Roma di Murigno, una squadra coraggiosa, devo dire la verità, una squadra coraggiosa, con Paredes che spesso e volentieri va a infilarsi in mezzo ai due centrali di difesa, Mancini e Uisen, e siamo felici, no, che Uisen possa comunque giocare queste partite complicate, perché fa parte del percorso di crescita del ragazzo, e con Carsdorp e Algerinio che si alzano, quasi a formare un 3-4-3, la famosa salida alla Volpiano, una squadra che non ha paura di andare in avanti con tanti effettivi, una squadra che riesce a ripartire in contropiede, anche con il Sherawi largo da una parte, Dybala dall'altra, e Pellegrini al centro, dietro Lukaku, quindi è una squadra che si muove molto bene, la Roma di De Rossi è una squadra che comunque fa il suo, anche perché questo è un test molto importante, molto difficile per loro. Avevamo vinto le prime tre, contro squadre un po' così, però poi l'Inter è un'altra roba, e l'Inter, devo dire la verità, c'è un, anzi non una, due cose su cui rosico particolarmente, la prima, che noi avevamo ipotizzato che l'Aventus potesse preparare questa intera gara sul fatto di giocarsela sulle ripartenze o sui calci da fermo, ma l'Inter è una squadra che ha sempre difeso bene in quelle situazioni, tant'è che gli XG concessi sulle ripartenze erano pari a zero, e noi abbiamo la nostra più grande occasione proprio con Vlaovic su una ripartenza meravigliosa di McKennie che dribbla praticamente tutto il centrocampo alla difesa dell'Inter. Vlaovic sbaglia lo stop e si crea un vero e proprio punto di non ritorno, perché tanti pensano che quello sia il momento della sconfitta della Juventus, per me quella è un'occasione grandissima che Vlaovic non deve sbagliare, però qua entra in gioco quello che è il secondo grande rimpianto, cioè il fatto che noi siamo riusciti a creare soltanto quella insieme a quella di Gatti, di vere e proprie occasioni da gol, perché la Roma ci ha dimostrato che con un pochino di coraggio in più si poteva fare, non tanto magari anche sin dall'inizio, però nel momento in cui mancano pochi minuti e sei comunque svantaggioli, mi aspetto che la Juventus vada l'arrembaggio, perché perdere 1-0, perdere 2-0 è la stessa cosa, quindi la Roma almeno ci ha provato, la Roma almeno ci ha provato da quel punto di vista lì, la Roma ha fatto sudare 7 camicie all'Inter, poi l'Inter l'ha vinta perché è più forte, meritatamente, e tutto un altro paio di maniche, quella roba lì ancora un po' non mi va giù, devo dirvi la verità, ancora un po' non mi va giù, perché ora ci ritroviamo nella condizione di vedere l'Inter perché è pari partite a noi, perché loro devono recuperare con l'Atalanta, noi dobbiamo giocare con l'Udinese, sono già avanti di 7, possono diventare 10, vediamo che cosa facciamo noi, insomma è tosta, è tosta, ma vi dicevo le ripartenze e i calci da fermo, perché il gol di Mancini arriva proprio da un calcio da fermo, va tutto molto bene da Pellegrini, molto bene da Pellegrini, con Mancini che la tocca decisamente bene, e fa 1-0, e fa 1-1, e l'altra è proprio una ripartenza, fatta bene, con Lukaku che fa quella sponda un po' strana, un Pellegrini che conduce, serve il Sharawi che calcia, secondo me molto male, però quel pizzico di fortuna che preme gli audaci, perché poi la fortuna, gli episodi te li devi andare a costruire, la Roma va meritatamente, secondo me, a riposo, sul risultato di 2-1, però poi Bastoni l'ha spiegato, e cioè che Inzaghi ha dato la scossa, Inzaghi è squalificato, in tribuna, col cellulare, io non so nemmeno se si possa fare questa roba, però è successa, ha dato la carica alla sua squadra, ha ricadricato le batterie, i primi 10 minuti di secondo tempo dell'Inter sono roba da manicomio, c'è roba da manicomio, l'Inter che scende sulle fasce da destra, dalla sinistra, ma poi a destra attacca con Barella d'Armian Pavard, a sinistra attacca con Mkhitaryan, Bastoni e Di Marco, perché praticamente sono tutti lì, sugli esterni l'Inter ha sempre 3 giocatori, sempre 3 giocatori, e infatti l'ha detto bene Cristante quando è stato sostituito, Mister, sulla sinistra siano sempre 3 contro 2, ci prendono sempre superiorità numerica loro, siano sempre di meno noi, non riusciamo più a prenderli, come facciamo a uscire da quelle situazioni lì? E infatti l'Inter sugli esterni va a costruire la fortuna, con un Thuram che è francamente troppo in questo momento, perché il gol del 2-2 è meraviglioso, sì, la difesa della Roma la poteva leggere meglio, secondo me, ma quanto è stato lesto e intelligente Thuram a metterci quel piedone. E il 3-2 è ancora un autogol, come la settimana scorsa, ancora un autogol procurato da Thuram, ma quanto mette in difficoltà i difensori con quei suoi movimenti. L'Inter veniva da Fiorentina, Juventus e Roma e ha fatto 9 punti di fila, e ora si concentrerà sulla Champions, con l'Atletico, che non è un avversario sicuramente facile, però ci dà la dimostrazione, ci fa capire quanto questa squadra sia forte, e la va addirittura a chiudere quando in attacco aveva già fatto le sostituzioni Sanchez-Arnautovic, che la vanno proprio a costruire loro la rete del 4-2, con bastoni che si butta dentro, senza considerare che c'era stato anche un palo di Pavard, quindi i braccetti dell'Inter, che sono sempre qualcosa di pericolosissimo, un palo e un gol per bastoni Pavard. L'Inter in questo momento è una macchina perfetta, ma l'incuore vi devo dire che sembra proprio di sì, sembra proprio essere così, e diventa dura per la Juve, la sapete qual è la mia scelta di vita in questo momento, il mio mood da qui al termine del campionato, sognare di ripercorrere un 5 maggio, questa volta sarebbe ancora più clamoroso per quanto mi riguarda, perché l'Inter è decisamente troppo avanti, decisamente troppo avanti, e oggi lo può perdere solo l'Inter, però fino a che non c'è la matematica, io voglio provare a credere in questo miracolo, ma per fare questo miracolo bisognerà vincere con l'Udinese, e bisognerà vincere e iniziare a convincere, perché c'è stata proprio la differenza secondo me di Roma da Mourinho e De Rossi, si è vista assolutamente la differenza della Roma da Mourinho e De Rossi, e la Roma oggi è vista in difficoltà l'Inter, così come si è vista la differenza dell'Inter del primo e del secondo tempo, l'atteggiamento, l'essere più propositivi, o cercare una situazione tatticamente interessante, sono cose che fanno la differenza nel calcio di oggi, quindi io molto banalmente vi dico, secondo me se la Juve al termine del campionato arriverà a seconda dietro quest'Inter, alle spalle di quest'Inter, che cosa gli devi dire la Juve? Cosa devi dire la Juve che arriva a seconda dietro quest'Inter? Brava, perché in questo momento loro sono dei marziani, per quello che è il livello della Serie A, e ti sei preso il primo posto disponibile subito dopo, però a patto che si finca pure la Coppa Italia, ecco io credo che la Juventus per salvare questa stagione, debba arrivare almeno seconda e vincere la Coppa Italia, se la Juventus non riuscirà a fare queste cose qua, poi lo vedremo, non mi interessa pensarci adesso, però la Juve deve puntare forte a queste due cose, perché se in questo momento qui la Juve si lascia trascinare dal fatto che, vabbè, secondo, terzo, quarto, tanto io comunque in Champions ci arrivo lo stesso e l'Inter ormai è andata via, finisce male, molto male, decisamente male, e sarà difficile già lunedì, perché oggi sentiremo allegri, no, in conferenza stampa che cosa ci dirà, però le indicazioni del sabato come origine erano chiare, Vlaovic non sarà presente per la partita con l'Udinese, e se mettiamo anche il fatto che Chiesa è rientrato e non sta benissimo, Rabiot l'abbiamo visto non è al 100%, Chiesa, Vlaovic e Rabiot, sono proprio tre a caso, ricordati i tre marcatori di Udinese e Juventus a 0-3, prima giornata del campionato 2023-2024, sono stati proprio loro, quindi abbiamo necessità di recuperare quelli che possono essere della gara, con un Ildiz in più, che a Udin era entrato, mi pare tra l'altro gli ultimi istanti, ma non era ancora entrato prepotentemente nelle gerarchie, e ora c'è, probabilmente con un Milik, che deve riscattare un errore gravissimo, che probabilmente ha compromesso terribilmente la stagione di Juventus, come con l'espulsione con l'Empoli, e quindi la Juve deve ritornare a fare gruppo, perché c'è una differenza abissale, tecnicamente e tatticamente dall'Inter, l'abbiamo visto in uno scontro diretto, e abbiamo visto anche oggi che quando l'Inter decide di giocare, vincere le partite, gioca e vince le partite, cioè c'è poco da fare, mi dispiace ma c'è poco da fare, è così, quindi per salvare la stagione noi dobbiamo dire, d'accordo, loro sono là, però non si sa mai che possa succedere qualcosa, prendiamoci questo vantaggio di dire, rimaniamoli attaccati, non guardiamo il Milan, guardiamo l'Inter, anche se è lontana, anche se è raggiungibile, guardiamo l'Inter, guardiamo avanti, non guardare avanti in questo momento sarebbe deleterio, perché la Juve deve ricostruire una mentalità vincente, perché credo che questa sia principalmente, la cosa forte dell'Inter di oggi, una mentalità vincente, una squadra che vuole vincere le partite, una squadra cannibale, che non vuole accontentarsi, e secondo me la Roma sta andando in questa direzione qua, poi non so se De Rossi sarà il tecnico che verrà confermato, anche l'anno prossimo, non ho idea, però sicuramente è partito bene, poi bisogna vedere se è soltanto una roba emozionale, emotiva, di coinvolgimento, o c'è anche qualcos'altro, proprio dal punto di vista tattico, sicuramente oggi la Roma, sembra una squadra convincente, è convincente anche la Juve, non dimentichiamocela di questa cosa, perché rispetto all'anno scorso sono stati fatti passi da gigante, la Juventus dell'anno scorso non ha niente a che vedere con quella di quest'anno, ma sia l'anno scorso che quest'anno, c'è sempre stato un filet rouge, che univa anche la prima Juve dell'Allegribis, e cioè la testa, quando ci veniva a mancare la testa, anche le partite più semplici diventavano impossibili, non dobbiamo assolutamente commettere ancora questo errore, qualcuno di voi mi prendeva in giro, nell'ultimo video che ho pubblicato prima di questo, mi diceva ma come, dici sempre che è la partita più importante, ma ragazzi adesso sono tutte delicate, adesso sono tutte delicatissime, perché se dall'altra parte c'è una squadra come l'Inter, che macina risultati e continua a volare, e dietro stanno arrivando, non puoi mica addormentarti, non puoi mica schiacciare un pisolino, non puoi dormire sugli allori, c'è da correre, da sudare, e da voler la vittoria, ci vediamo oggi pomeriggio con la conferenza stampa di Allegri, ciao